Musica Ciao a tutti ragazzi sono NDD e bentornati sul mio canale con il bellissimo Minecraft Allora, non sto facendo il deficiente rallentando la voce, non vi preoccupate Sì sono un po' deficiente ma lasciamo perdere Allora, dicevo, intanto che stavo qui e gingillavo, mi stavo gingillando un po' da solo E mi chiedevo se è possibile, se era possibile intanto iniziare a fare gli endertank Però per fare questi fottuti endertank ci servono altri 3D blaze road I blaze road toccanagliappia per forza rinaboccrevo squala Allora, demanna per forza... Allora, un altro di questo mi serve sicuro Poi mi servono due ossidiane sicure E intanto posizioniamo il da farsi Ok, questa qui poi una ender... ender pal Ok, e poi altre cose, cioè altri 3D questi che toccanagliappia per forza All'interno del nostro bellissimo Questo l'abbiamo fatto Questa l'abbiamo fatta Ci mancano un paio di cosine giuste giuste Ma solo un paio, se proprio vogliamo dirle a tutta Io ho ucciso un altro di questi là fuori E dovremmo riuscire a far... a far... Allora, qui le canne da zucchero devo rindarle a ripiantare Perché se no non mi fanno i fiori Allora, e dicevo, dobbiamo andare nel nether a riprenderci appunto tutta la faccenda qua Allora, io non capisco una cosa, no? Santa Lucia, ogni santa volta, ogni santissima volta che ha fatto il nostro... ecco qui Devo fare nuovo X e metterci il... Questo qua era, non mi ricordo più Sì, mi pare che era quel controllo del volo Ok, X Ok, adesso sì che si ragiona Allora, ho capito come funziona il controllo del volo Nel senso che se noi puntiamo verso l'alto, lui va verso l'alto Se noi puntiamo verso il basso, lui va verso il basso Eh, questo è quello come... Uiii Quanto cacchi ha eschevate One Ok Ovviamente se lo facciamo un po' più... Wow Lo facciamo un po' più... Lentamente ci succhia molta meno energia quando andiamo a sbattere Allora, intanto ci prendiamo tutta sta roba Che così la portiamo dentro Primo Allora, la prima cosa facciamo così, fermo, eh Dammi un po' quella da poco Quanta, dove sta? Quella poco Ok, ci prendiamo questa E massacriamo questa Aspetta, aspetta, aspetta Ok Eh, senza il controllo del volo Ok Possiamo ritornarcene su Ok No, 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 così Ok Eh, no, giusto così Lei ha messo coso che fruschia come i cosi Grazie, metti questa qua La mettiamo qui E le diciamo di scavare di nuovo Escavate Cinque Vai, divertiti Ok, tanto c'è il coso lì sopra Che porta la cosa a go go Quello lì Quello là Eccolo qui Questo che porta, ovviamente Ok Andiamocene un secondo dentro Quello intanto sta continuando a smacerare come uno sesso proprio E mettiamogli tutto questa roba qua all'interno così Questo è marble, non c'è bisogno Ok, allora Questo viene con me ancora Perché tanto ce ne stanno tanti lì Questo viene con me Questa viene con me E il resto la possiamo ripetere qui Questa ce l'avemo già Il marble ce l'avemo Questo ce l'avemo Il salte Questo non ce l'ho Il salte non ce l'ho Queste vanno qua E la cinbar Mi pare che la cuoce senza uranium dust E infatti l'uranium Ma che bello C'è anche l'uranium ma che bello Questa la cuoce senza Esattamente Senza che rompa i coglioni Allora Quello che volevo fare era portarmi giù Dato che ho lo spazietto Ma che cazzo ho fatto Mannaggia me Ho lo spazietto Oh Metterci tutta questa E metterci questa qua Che bello Adesso 25 stack da 64 Più 34 Io Non vorrei fare il pessimista La situazione Ma Quei cosi sono stupendi Quei cosi che acchiappano Pezzi di cose a gogo È stupenda proprio Adesso Quello che volevo intanto Anticiparmi Oltre ad andare a prendere Un'altra tre blaze Che è quello ci metto poco Non vi preoccupate Era cominciarmi a fare Questo L'iron tank Che praticamente Eccolo qua Si fa Con l'iron plate Dentro Roll in machine Mannaggia la vacca Deci roll in machine Non è questa Mannaggia le vecchie Un roll in machine Io non l'ho fatto Se non sbaglio No Non l'ho fatto Ancora Eh madonna Devo fare il roll in machine Allora Scriviamo qui Roll Rolling Eccolo qua Aspettate Mi pare che uno Gliel'avevo rubato L'avevo rubato Un roll in machine Si Esatto L'avevo rubato L'avevo rubato anche questo Che è molto più importante Il roll in machine Allora Mettiamo questo qua Questo qua Glielo famo Partire No Mi serve l'acqua Allora Allora Boni Fermi Ho una vagha idea Di fare una cosa Molto figa Ho una vagha idea Di fare una cosa Molto ma Molto figa Scavare qui sotto E utilizzare l'acqua Che va qui Anche per Il roll in machine Ovviamente tanto qua sotto Dobbiamo prepararci per Eventuale Aiuto Mezzo economico Mezzo note Quell'altro coso Che demo fa Quindi Direi Da cominciare a scavare Perché sto scavando qui però Ah si ok Perché mi serve da portarci i tubi Per la roll in machine Per ora ci poggiamo solamente Il tubo Io ci ho paura Levo a questa Ah no ok I tubi della roll in machine Però dove faccio uscire Qua sotto Ok perfetto Allora Mi servono I tubi dell'acqua Ce l'avevo Ce l'avevo Eccoli qui No Si Fluidact Ce l'avevo Allora I fluidact I fluidact Chi che so Ok È mia moglie Allora I fluidact Ok Così dovrebbe essere Sufficiente Per Distribuire acqua Al roll in machine Però Prima mi serve Per posizionare questo Poi piazziamo questo E infatti Acqua go go Questo C'ha Acqua go go E qui No Dove cazzo sta E qui gli manca Il ferro Il carbone A go go Allora Innanzitutto però Ho fatto una cazzata Perché devo mettere Il porca miseria Il porca miseria A livello del porca miseria Devo mettere il porca vacca A livello del porca miseria Perché se no Eccolo qui Si sta riempendo Perfetto E adesso dovrei mettere A livello quello lì Però se metto Rolly machine Qua Si collega Con l'energia E mi da RF Ah ma posso Prendere l'RF Da là sopra Io Ma quanto sono Idiota Da 1 a 10 Quindi non c'è bisogno Neanche di mettere Queste Dammi qui Dammi qui Mannaggia la bocca Io che mi ero preoccupato Che potevo Dovevo far funzionare Tutto per forza Con quello Non ce n'è bisogno Faccio tutto Dall'RF Di là E la proseguo La metto Dall'altra parte A sto punto Perché devo rovinarmi qui Allora Fermi eh Ce l'ho Utilizziamola Ok Perfetto Andiamo a prenderci I cosi Della Eccoli qui Questi sono In fluidacta Non mi servono Ah però Adesso ce n'ho uno solo Se mettiamo caso Devo mettere un altro Cosa qui Non c'ho niente Per mettere Quindi Mettiamo Il tubo qua E il Rollie machine Qua Sì signore RF A go go Anche qua RF A go go Anche qua Anche se A quanto pare Questo Ha finito Cacchio Ha finito il carbone Ecco perché Non mi lo ricarica Ah 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 Dobbiamo sbicarci A fare assolutamente A fare quel coso Là Perché sennò qua Se finisce tutto Se finisce tutto E non riusciamo Più neanche a Gestire la situation Ragazzi Serve Assolutamente Assolutamente Ripeto Eh Cose Molto Ma molto Ma molto Vabbè Non c'è bisogno Del coala Allora a sto punto Il coala lo metto qua Il coala lo metto qui E lo faccio Andare a palla Perfetto Anche perché Si sta avvicinando Il buio Credo E infatti Dormiamo Perfetto 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 Vediamo Adesso Andiamo subito A far Uh questo ha fatto Col cazzo Ah perché Ho 64 pezzi E non riesce più A smacerare Buono Intanto abbiamo un sacco Di rubber Buonissimo Ottima cosa Più Questo è il carico Perfetto Questo è Carico Perfetto Ehm Rolling machine L'avevamo già Abbiamo anche questo Ma dobbiamo sostituirlo Per fare il tank Ok Dobbiamo Dobbiamo fare prima questo tank Si può fare anche di Steel E dovrebbe aumentare un po' Il diametro Se non sbaglio No Non lo so Che cazzo aumenta Ehm Multi block variable Besides All of Non si sa che cacchio Fate è differente Però preferisco Di iron Per un semplice motivo Perché è più facile Reperirlo Lo steel invece Bisogna andare a fare Steam plate Con lo steel ingot Con Appunto Come cacchio Come se fa Lo steel ingot Di merda Lo steel ingot Steel ingot Steel ingot Sto ingot Ecco qua La blast Con la blast Forneis Con la blast Forneis L'iron Esatto Con la blast Forneis Per fare lo steel O con l'arc Forneis Una delle due Una delle due Succhi RF Ovviamente Ovviamente Cerchiamo un attimo L'arc Forneis Vediamo un po' Arc Arc Forneis Forneis Arcanastone No Della Concraft No E L'arc L'arc Forneis Lo cazzo Stai Zia Che se non sbaglio Si può fare anche Ehm Si deve fare una parte grande L'arc Forneis È grande È fatta tipo 3x3 O 4x4 Una cosa Arc Ecco per esempio No Se scrivo Fornace Non esce un cazzo Quindi solamente Ehm Fornace Ehm Sì Fornave Fornace Eccole qui infatti Red Matter Red Matter Dark Matter Dark Matter Blast Forneis Brick Eccolo qua La Blast Forneis Questa è l'Industion Electric Iron Poi abbiamo la Blast Forneis E infatti E infatti Si fa con la Eh Il Blast Forneis Il Blast Forneis Si fa questa qui Si fa con gli arc Si può fare 3x4x3 E E così Video dicendo Vabbè comunque Ehm C'è anche la Induction L'Inductive E la Nether Vabbè Comunque noi poi dovremmo fare questa qui Per fare la Induction Per fare Ehm Appunto un po' di energia Con la Lava A quell'altra parte lì Però qui poi vi farò vedere ancora di più Cosa bisogna fare Basta Basta Mi sono stufato di queste cose Basta Vi dico più niente Adesso le vedete Basta Allora Ehm Continuiamo con Il fare Questo mob Tank 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 Appunto lo volevo fare di Iron Perché è più semplice farlo Quattro pezzi Fanno quattro di quelli Ok perfetto Allora se io mi prendo Ehm Quattro Posso fare un solo Iron Block E infatti No 8 pezzi Uuuuuh Wai una Fermo un po' Fermo un po' Fermo un po' Fermo un po' Fermate 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 Me ne stai a fa un po' troppi Allora Perché se io con quattro di questi Posso Ma che cazzo sto fa Con quattro di quelli Posso farmi Allora Distruggirà un secondo Perfetto Ti ringrazio Forse non basta Lazio Ok La ricaricata Perfetto Perfetto Ehm Posso farmene solo Con quattro Ne posso fare 16 Qua me ne escono 8 Ehm Se faccio quattro Però al centro ci volevo Mettere i vetri Però per fare i vetri Ah servono queste Ok 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 Fermi 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 Perché 8 di quelle vanno bene Poi Che è questo Low pressure boiler Tang Vabbè Non me ne frega un tubo adesso Voglio andarmi a prendere Questi qui Eccoli qua Allora E fare appunto Mi pare che era così E poi così Nope Ma che cazzo Ah 8 pezzi ne fa Perciò devo metterlo Quello al centro E questo va qua Questo va qua Questo va qua Questo va qua E no Questo al centro 8 pezzi di questo 8 pezzi di quello Poi mi servono 2 pezzi di questo Ehm De valvole Perché una La Ehm 8 pezzi Sono troppi 8 pezzi Sono troppi A me una marvola Mi serve Non 10 Una Che cazzo Allora Dobbiamo fare una leva Che se faceva Ehi Mi sono dimenticato Come si poteva Faceva le leve Ma stiamo scherzando Allora Una di questa E una di questa Ma che stiamo scherzando Mi sono dimenticato Come si faceva la leva Ah no Ho sbagliato Non è questo Marco mondo schifoso Non mi uccidete Non mi uccidete Porca vacca Non mi uccidete Eccola qui Leva E poi 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 No ho sbagliato Queste Ah dobbiamo fare L'iron Va tappiando il secchio Ah ci escono giusti giusti Tiè Pim 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 Tin 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 Cavalin E poi vetri E ho sbagliato Ma perché io Perché Perché ho messo i vetri A posto di essi affari qua Perché Perché ho messo i vetri A posto di essi affari Non ci arrivo proprio Madonna regale Ho fatti precisi L'ho fatti proprio precisi Popo Popo che da precisi Ok Queste sono Queste qua sono le cose principali Che ci servono per E poi vabbè Ci servono quelli Questi qua Questi tubi Dove cazzo l'ho messi? I tubi Quelli Quelli là Dove cazzo ho messo i tubi Quelli fighi? Ah eccoli qui Fluidact servono Perché dobbiamo trasportare Il liquido Da lì A Le eventuali Pompe Che metteremo qua sotto Allora Intanto che abbiamo fatto Anche questo Posso togliermi Da qui Li mettiamo qua Per ora Perché adesso Voglio andare nel Fottutissimo Nether A prendermi La Fottutissima roba Ehi Ce l'avevo Va fa culo Perché non guardo mai Mannaggia me Quando svengo Allora qui abbiamo tutto Buono Abbiamo tutto Andiamo un attimo nel Nether A recuperarci E corri fratello A recuperarci A recuperarci Quello è andato I blazes I blaze Andiamo a recuperarci I blaze Sta laggando Bene Perfetto proprio Quello che volevo Che laggassi proprio Te i lag proprio Ma ultimamente Fa veramente una cifra Entrata d'aggia Teleport Io spero Ah beh Che cazzo è questa cosa Non ce ne sa Perché mi fai questi rumori strambi L'odio Dai Dai Su Niente Non spawn a un frappo Andiamo dall'altra parte Vediamo se si è bloccato Sto merdo Ah tu spawni qui E mi fai anche Bloccare il mondo Allora Allora Mettiamo in chiaro una cosa Tu Mi stai sulle Bulls E non ti colpisco Eccolo lì Vieni qui Oh Eccoli qui che stavano Spawnando tutti Adesso Stanno spawnando Tutti Adesso Oh Mi hai colpito Mi hai colpito Schifo Schifo Mi stai a colpì Schifo No Mi stai sulle balle Te lo dico Mi stai proprio sulle balle Eeeh Che è sta storia Che è sta storia Ah è morto Bene Sono contento Allora 100 165 64 Ce l'ho l'energia Perché non corre Sto merdo No Mi ha buttato giù tutto Ma mi hanno buttato giù tutto Ste merda Allora Duccare come danno E tre Vai Vieni qui Vieni qui Uno solo Ma porco Schifoso Porco Porco Eccole qua Uno Eeeh Mannaggia te Muori Siamo a due Ne servono Un altro Serve uno solo Dai Sì ma io qua De cosa sto a pieno Mo' esplodo E basta Mi hai stufato Tu Signore Che rottura De coglioni Vesso Uff Hai stufato Hai stufato Povero Non c'ho neanche L'acqua Signore Me ne serve solo uno Uno Un blades Porco mondo Guarda se me lo fanno Fa un blades E basta E basta A 49 Si blocca Dove sta Che questo Mi ha stufato Dove ho deciso Di massacrarlo Di botte Ho deciso Di massacrarlo Di botte Dove cacchio Stai Vieni Vieni merdo Ken Cerco raggio De venire Merdo L'odio Eccolo qui Due Sempre due Che palle Sempre due Che rottura Ah ecco Dove è Ok Se avete sentito Il cannabaliere Non vi preoccupate È il telefono Che mi è arrivata Una mail Non capisco perché E niente Manco questo Eccoli Stiamo a tre Bene Perfetto Quello che volevo Ah Oh 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 Mannaggia La vostra vacca Mannaggia La vostra Maiala Allora Boni Ne ho presi tre Namosone Perché già mi sta Stressa l'anima Questo Uii Uii Sembra un animale Che sta in sofferenza Sembra Basta Oh E che diamine E che cos'è E su E che cosa abbiamo qua Ok Ne abbiamo tre In più ho preso sto coso Ah ok Lo shaw Ah uno zombie Ciao zombie Muori zombie Ah devo fare il coso Che si cali Lo zombie Devo fare lo siccatore Per le cose Dello zombie Che praticamente Esiccano La pellaccia loro E praticamente Te la puoi mangiare Senza che tu Subisca dei danni Il fattore È proprio quello La cosa figa È proprio quella 62 Carichiamo questa Boom 79 Porco mondo Schifoso Sta a succhiare Come non mai Allora Mi fai l'ultimo pezzo Di questo Per favore 2 E 3 Bene Il secondo ce l'abbiamo Benissimo Abbiamo sia il primo Che il secondo Sono due Più abbiamo tutto Il tank Più abbiamo il chunk loader Ci serve solamente Il La pompa La pompa La pompa La pompa Eh beh La pompa La pompa Pumpa 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 Eccola qua Pumpa La pompa La pompa Eh che coglioni Sti tank di merda Allora L'iron gear Che posso fare anche Con l'iron così E lo facciamo Sobato Sono quattro Se non mi sbaglio Sono uno Due Tre Quattro Eh no Sono cinque Mannaggia A me Quando svengo Pieno Le dita Pussolenti E che cacchio Signore Signore Non so più dove mettere Ste testa io Eh poi Fanculo Eh grazie Fanculo No Non posso dirgli fanculo Perché quella È una testa che serve Allora No però posso dirgli fanculo A queste Bene bravo E che altro dovevo fare Non mi ricordo più Ah si dovevo fare La pompa La pompa La pompa La pompa La pompa Questa l'ho fatta Due ferri Quattro ferri Una redstone E un secchio Quindi servono Quattro ferri Per quello Più Altri Uno Due Tre Per il secchio Più Una redstone Benissimo Allora Facciamo Il vecchio secchio E mettiamo il secchio qui I quattro ferri qui E il rain qui E questa qui Poi i tank Se non sbaglio Si faceva così Si esatto Mi mancano solamente I due tank E tutti i vetri Mi sa che il vetro Non mi abbasta E infatti C'ho solo due pezzi La sand Uh c'ho il white Però Penso che posso Modificarlo Se metto Il white Ok Metto il white Quindi ci sono tre pezzi Di vetro Me ne servono Ui ho sbagliato Da qua Me ne servono Questo Questo e questo In più altri pezzi Bene Perfetto Altri tre Me ne ho fatti Perfetto Uno Due Tre Eh Servono nove Nove Mi sa che manco Ci arrivo Perché I pezzi Di Sì Dovrei Arrivare Dovrei Arrivare Sì 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 Ce la dovrei Facela Dovrei Fa Ce la dovrei Fare E infatti Un tank L'ho fatto Ora Facciamo Quell'altro Ovviamente Mi mancano Altri pezzi Qua Dai Madonna Come sei lenta Su Quattro Cinque Ah sto Sei Bene Mi mancano due pezzi Due pezzi Due pezzi Due pezzi Benissimo Due pezzi Quella cucina La lascia lì Dai Può essere sempre utile Poi Andiamo di qua Mettiamo qua E la pompa L'abbiamo fatta Abbiamo fatto anche la pompa Ora Serve la redstone 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 Aspettate Come si chiamava Redstone Injain Se non sbaglio Redstone Injain Char part No Aspettate Se non mi sbaglio Redstone Injain Aspettate 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 Injain Vediamo Redstone Injain Electronic Pit Boygas Cookload Si 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 Redstone Redstone Injain Allora Glass Vedete che il vetro serve sempre Tre pezzi di ferro Una Allora me ne servono almeno Vediamo un po' Credo quattro Perché se ne faccio quattro Mi può aiutare Più velocemente La pompa A fare il suo lavoro Cazzo Siamo a 28 minuti Ragazzi siamo a 28 minuti Noi mi sa che ci vediamo Nel prossimo episodio E spero Questa è un altro pezzo Che va qua E spero che Andiamo a fare il resto Uh qua avevo gli altri Vaffanculo Io mi devo No mi devo fare No mi devo fare Un smistamento Cestiche Perché così Non ci sto a capire Cazzo Allora mi serve Il Ok E tutti porco mondo E dai porca vacca Ok Servono due di queste Quindi quattro pezzi di coble E tre Sei pezzi di coble Allora Fermi 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 Allora Due di questi Ma che cacchio fai Due di questi Due di questi Poi sono Ehm Tre Sei Sei E vanno Quattro Quattro Otto Quattro Quattro Otto Sei Sette Otto Poi mi servono Eh mi serve il legno Ma porco di quel legno Porco di quel legno Per ora No sei Sono giusti Che cacchio dico Perfetti Mi servono due pompe Due cose Perfetto Due perché me ne servono due Di questi Cazzi Me ne servono quattro In realtà Però meglio due Però adesso Ne faccio due Poi dopo vado a prendere legno Ne faccio altri Ehm Dodici Tredici Mi pare che erano tredici Se non sbaglio Tredici Perché devo fare Uno Due Eh si Ciao core Ok Due Due Eh no Ne devo fare un'altra due Avanti Ne arrivano altri tre Altri tre Ehm E one Two Three Bene Perfetto Ok Ne ho fatti altri due E ci stiamo Poi mi serve Eh due vetri E tre Sei pezzi di legno Mannaggia a me Pezzi di legno Mannaggia a me Pezzi di legno Io qua non c'ho legno Però Ma porco Ma porco No Andiamo a raccattarci un albero Andiamo a raccattarci un pino Un alberello molto fino Allora Prendiamo questo Ok Dobbiamo ripiantare un po' Le piante Le piante Le piini qua Che se no Finiscono Finiscono Qua c'ho la rabbera Ok Questa la ripiantiamo poi Nel futuro prossimo Nel futuro Molto prossimo E poco futuro Eh Qua Qui Qui Perfetto E per adesso No Ho sbloccato un coso Un archivio Ne abbiamo fatti due Perfetto Allora vediamo un po' Se questo qui è quello che funziona Con la redstone Perché Ehm Tor Eccola qua Redstone torch Se faceva Ah uno stick Che cazzo Mi sono preso Che è sta roba Ah Ok prendiamo uno di questi E vediamo se riusciamo a fare Una redstone torch Per vedere se funziona Perché non me lo ricordo più Allora Mettiamo qui Ma che cacchio Ma che cacchio Ma è lì Hai visto i cosi Da torno E mettiamo Questo qua Non funziona Bene Perfetto Non funziona Non funziona Non funziona Non funziona Non funziona Non mi ricordo più Bene Noi ci vediamo In un prossimo episodio Ragazzi Perché qua La vedo lunga Dov'è la tavola La vedo al quanto Perché non me lo levi Perché non me lo levi Ah Vaffanculo No Se stavo a ricaricare Era verde Era diventato verde Vabbè Comunque ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo episodio Se voi vi ricordate Come funzionavano Gli redstone engine Mi pare che con la redstone vicino Erano così Gli redstone engine O erano gli stirling engine St Stirling Te Non me lo ricordo più Bene Che bello Sono proprio un genio Sono un genio Bene E niente Engine Perché l'unica cosa Che funziona Con l'engine Che non mi ricordo Era Redstone engine Che funzionavano Con Stirling engine Invece funzionavano Non mi ricordo Che cosa Il combustion Il creative Poi l'electronical Questi qui erano Quelli elettronici Il Pitfire Questo qua Mi pare che era con la lava Il biogas Cookwork Non mi ricordo che Però era questo Più o meno Quindi se voi sapete Qualcos'altro Ditemelo nei commenti E intanto Io Sbarello Comunque si Mi pare che era questa La redstone engine Devo solo trovare Devo solo trovare il modo Perché mi pare che Se stava a caricare Quindi A breve Ripartiva Ok ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Come sempre Ciao a tutti Ciao a tutti La caricata La caricata E caricate questa Ah ho finito Lala Ho finito Lala pollo Vabbè Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Noi ci vediamo